Scattano le nuove nomine all'interno di alcune sezioni della Croce Rossa di Caltanissetta. Il consiglio direttivo ha infatti conferito il ruolo di delegato dell'area operazioni emergenze e soccorsi ad Andrea Miciche, volontario della Croce Rossa da oltre 20 anni, formatore nazionale dell'area sociale, istruttore e redattore dei piani di protezione civile e di emergenza dell'associazione. Luigi Domenico Walter Savarino sarà invece il nuovo referente per i soccorsi con mezzi e tecniche speciali, che vanta una grande esperienza nel soccorso e nelle attività di recupero in zone impervie. Andrea Leone sarà il nuovo referente per le telecomunicazioni, mentre il referente per le attività chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari sarà Antonio Giuseppe Loria. Valentina Mistrette è stata invece nominata nuova referente dell'unità di strada per potenziare il servizio in modo da renderlo migliore in base alle nuove necessità delle persone vulnerabili. Soddisfazione da parte del Presidente del Direttivo della Croce Rossa di Caltanissetta, Nicolo Piave, e dei componenti Laura Russo, Antonio Gumina, Alessandra Romano e Marco Lacagnina, i quali hanno sottolineato la grande professionalità dei volontari scelti per gli importanti e complessi incarichi. Il Direttivo si è detto certo del grande supporto che verrà dato alle istituzioni locali e provinciali in caso di intervento. Per noi, ha aggiunto il Presidente Nicolo Piave, la formazione è fondamentale. In assenza di quella non possiamo garantire gli standard qualitativi che il cittadino, giustamente, si aspetta da una gloriosa istituzione quale è la Croce Rossa italiana, che mi onoro di rappresentare nel territorio nisseno.